Salve ragazzuoli, bentornati sul canale! Siamo di nuovo nella nostra serie di sopravvivenza per un nuovo episodio, ovviamente. Allora, l'ultima volta avevamo abbozzato quella che era l'entrata della nostra stanza con sta gradinata molto carina, però ci eravamo resi conto che purtroppo con questo piccone fare tutti i lavori è una rottura di balle. Quindi oggi come obiettivo dobbiamo assolutamente fare un enchanting table, per forza. Cioè, non si scappa da sta cosa, perché senza l'enchanting table io non posso continuare a usare questi strumenti base, pure se sto in diamante, vado troppo lento. Quindi mi farò una bellissima enchanting table, ho pochi livelli di esperienza, ma quello non è un problema perché abbiamo la bellezza di due spawner di scheletri, di cui ho scritto le coordinate sul libro, se non mi ricordo male, o per meglio dire, di una l'ho scritta sul libro, dell'altra no. Adesso ce l'aggiungo. Ecco qua, ho scritto le coordinate dell'altro mob spawner, che ovviamente, come possiamo vedere, non è assolutamente vicino a questo che abbiamo trovato. Vabbè, questo qua è quello nella grotta, praticamente sta molto vicino, e questo è un altro che abbiamo trovato, sperdendoci. Intanto qua rileggiamo un attimo il libro dei consigli, le slab di bambù come combustibile. Ah, questo me l'ho scordato, questo si potrebbe fare una farm di bambù per vedere come funziona. Libro coordinate l'abbiamo fatto, poi i gugli, gli episodi sono lunghi e purtroppo non ci possiamo fare nulla. Il libro delle idee sul leggio, questo lo dobbiamo fare assolutamente. La nebbia, dobbiamo controllare la fattibilità, e quindi riposiamo il libro delle idee con, appunto, i vostri suggerimenti. Allora, dove faremo quello che dobbiamo fare? Non lo so ancora, nel mentre che ci penso, avevo detto che qua abbiamo la nostra fornace automatizzata, che io ho appena caricato, quindi possiamo anche far partire. Ecco che sta partendo, così smelta un po' di roba. Che cosa ci abbiamo messo? In teoria ci ho messo anche del ferro e dell'oro. Guardate quanto è veloce. Cioè, praticamente ne fa... Non lo so quanti al secondo, però ne fa un po'. Allora, avevo detto, questa è tutta automatizzata, Poi mi servirà, ovviamente, fare anche degli smoker, per cuocere il cibo, e delle fornaci normali. Visto che questa è zona fornace, io farei tutto quanto qua, se possibile, cercando di evitare di mandare sta roba nei binari. Ok, non ci stanno andando. Perfetto. Facciamo così, e io farei anche così. E quello c'è andato, ne so sicurissimo. Questo me lo ritrovo da qualche parte qua. Vabbè, me lo ritroverò in mezzo alla roba da smeltare. Non è un problema. Allora, qua io direi di fare... Vabbè, gli smoker non è che ce ne serviranno chissà quanti, perché, voglio dire, devi cucinare il cibo. Non è che devi farlo a una velocità sovraumana. Però queste qua potrebbero essere utili per cuocere, che ne so, pietre. Perché mi pare che qua dentro, se io metto la cobblestone, si blocca tutto. Quindi io farei una roba di questo tipo, e qua ci metterei due smoker. Ce li ho gli smoker da qualche parte? In teoria sì, e forse qua. Eccoli qua. Un'altra cosa che devo fare è mettere gli time frame qua dentro, perché nonostante sia tutto vuoto, mi sto iniziando ad incoglionire male. Allora, quindi, ricapitolando. Per fare quello che dobbiamo fare, adesso questa è una sistemazione provvisoria, poi aggiusteremo, mi serve chiaramente la pelle. Perché? Dobbiamo fare l'Enchanting Table. L'Enchanting Table ha bisogno di 15 librerie. Ogni libreria ci sono 3 libri dentro, quindi 15 per 3 sono la bellezza di 45 libri. Mi servono 45 pezzi di pelle, anche perché io la pelle, se non mi ricordo male, non ce l'ho, e se ce l'ho, ce n'ho praticamente uno schifo. Ce n'ho 5. Perfetto. 40 me ne serviranno. E poi mi serviranno anche altri pezzi di pelle per fargli time frame, che al momento non so come procedere. Ora, la domanda è molto semplice. Come procediamo per fare questo? Faccio una farm di mucche, vado in cerca di un villaggio, sperando di una delle librerie, facciamo entrambe le cose. Adesso mi preparo, perché chiaramente, come vedete, sto messo malissimo, e andiamo un po' all'avventura. In cerca di mucche, quindi probabilmente per fare anche una farm di mucche, ma anche in cerca di villaggi. Io mi prendo anche il mio ilmetto magico, me lo metto, e prepariamoci. Ok, ho preso il legno, il carbone ce l'abbiamo, mi sono fatto piccone, spada nuova, ho pure una barchettina, nel mentre ho pure messo una crafting table qua e sto cosa l'ho buttato là. Ho dormito, quindi siamo a posto. Guardate quanto è comodo salire questi slab, è carinissimo. Lo devo fare da tutte le tucce, tutta quella roba là la faremo con gli slab. Secondo me sarà una gran figata. Ok, andiamo in cerca di pelli. Allora, potrei andare con la barca oppure con il cavallo. Non lo so, andiamo col cavallo. Vado a prendermi una sella. Tanto ce l'ho. Attenzione. Ok, me l'ho dimenticato, avevo fatto sta specie di fontanella qui. Prima o poi ci rimorirò male, perché già ci sono morto scendendo da quella roba. Eccoci qua. Mettiamo la sella a ciccio bello e possiamo andare. Giusto? Devo togliere sta cosa. Come si toglie? La posso togliere stando sul cavallo? Sì, la posso togliere. Ok, allora, speriamo di poterci muovere con sto cavallo. Eh, ma c'ho sempre sti bastardi qua intorno. Vabbè, vado di qua. In teoria dovrei farcela. Signori, sto cavallo è rotto. Ogni tanto è impennata solo. Allora, sbirciamo un attimino nelle distanze. Se troviamo qualcosa, qua non c'è ancora nulla. Cerchiamo o mucche o villaggi. Questo è il nostro target del momento. Ok, la vedo delle mucche. Quelle mucche le lascio vivere, perché stanno vicino alla mia base e ho paura di sterminare tutte le mucche in prossimità della base. Quindi quelle le lascio vivere sicuramente. Qua c'è del ferro, ma non lo prenderò adesso. Quindi andrei da questa parte. Comunque, perché il mio cavallo impenna da solo? Qualcuno mi sa dire perché questo tipo, non lo so, si imbizzarrisce. Cos'è, è una nuova cosa che hanno messo che non conosco? Possibile, là c'è un enderman, ovviamente. Vabbè, passiamo per la nostra foresta qua di ciliegi in fiore, perennemente in fiore. Ok, qua ci sono tre mucchette. Io a sto punto ci proverei. No, sono quattro mucchette. Ti puoi togliere dal cavallo che altrimenti poi lo secco e lui si incazza? Benissimo, quanta pelle? Due. Oh, che mucca generosa. Vediamo questa quante me ne dà. Eh, è potentissima sta roba. Venì, no, e perché devi scappare? Cioè, ormai lo sai la fine che farai, no? E porca la zozzeria. Sta' te ferma. Ma, raga, ma qua le mucche droppano pelle come se non ci fossero domani. Non me la ricordavo sta cosa. Però ne avevo vista un'altra di mucca. Che fine ha fatto? Se ne è scappata per il... Eh, giustamente il terrore l'ha accolta. Ovviamente. Ha pure ragione, porrella. No, non metterti là che poi per ammazzarti. Raga, ogni mucca mi droppa la pelle. È una figata. È un cambiamento che hanno fatto. Io mi ricordavo che ti beccavi le mucche che non ti davano pure nulla. Vabbè, risaliamo su Cicciobello Macchiolino qua e andiamo a cercare altre mucche o villaggi. Possibilmente senza perderci. Perché quella è una possibilità che è sempre dietro l'angolo. Sempre. Ed ecco un'altra mucca. Allora, per ora sto andando abbastanza bene sia a trovare mucche ma anche a galoppare al cavallo perché non sono mai dovuto scendere. Cioè la zona permette le cavalcate nonostante ci siano 2000 montagne e montagnelle. Adesso se ce ne andiamo da qua non ti arrampicare sull'albero. Vedi, vedi, vedi che si imbizzarrisce sto cavallo. È strano. Qua ci possiamo morire male. Infatti. E qua c'è un canyon che al momento non esploreremo. Ok, vediamo se riusciamo a fare un coast to coast proprio di quelli potenti. Guarda quante mucche. Vediamo se ci posso arrivare. Andiamoci col cavallo. perché devo andarci a piedi. Dove, dove sto? Che sta succedendo? Ok. Piano piano tu avvicinati con fare proprio tranquillo che loro non sospettano nulla e poi le secchi malissimo in questo modo. Otto pelli. Va bene. Questa già ha subodorato la morte che si avvicina. No, ti ammazzata sola. Eh, questa non mi ha dato niente. Vedi? Le altre due, eccole, si sono dileguate. Una sta qua. Questa manco mi ha dato niente. Sta schifosa. Forse perché mi vedo... Forse lo colpisco da dietro, no? Praticamente non mi vedo... No, vabbè. Sto dicendo minchiate. Nove pezzi di pelle. Non mi sono portato molto cibo. Non perché io me lo sia dimenticato, ma semplicemente perché non ce l'ho. Intanto mi sto allontanando dalla mia base. Ma suppongo di poterla ritrovare facilmente. Ho comunque sto cavallo, signori, a parte il fatto che si bizzarrisce da solo. Però è bello potente. Là cosa vedo? Un'altra mucca. Ma è il paese delle mucche. Bastarda, non mi ha dato nulla. Questa gli faccio proprio un critico di quelli potentissimi. Ok, tredici pezzi di... Bellissimo. Dov'è la quarta mucca? Ne ho beccate sempre quattro finora perché... Eccola lì. Eh, lo sapevo che c'è l'infingarda di una mucca piccola bastarda. Grazie. Ancora un'altra mucca. Ma quante mucche... Eh, vabbè. Vabbè. Bellissimo. Ho fatto bene a lasciare quelle tre vicino alla base perché poi le ammazzavo ed era un casino. In tutto questo dov'è il mio cavallo? Eh, ho perso il cavallo. Allora, signori, mi sono appena perso il cavallo. Non so dov'è. Stavo qua. Stavo qua due secondi fa. L'ho ritrovato. Non si era allontanato e io me l'ho perso. Va bene, continuiamo l'esplorazione suppongo da questo lato. Intanto sta calando la notte. Io non mi sono portato un letto perché sono una persona molto previdente, ovviamente. Questo è... È chiaro. Ora, la nostra salvezza sarebbe trovare un villaggio nei paraggi prima che cali la notte che già sta calando. Troveremo questo villaggio secondo voi? Non lo so. Ho seri dubbi al riguardo. Signori, si galoppa di notte. Ci sono un sacco di mucche eppure un sacco di mob. Però noi siamo temerari o pazzi. Forse sarebbe meglio. E infatti mi stanno iniziando a sparare. Ma stati ferma che a me stanno pure a sparare gli scheletri. Cavallo, tu non ti preoccupare. Va tutto bene. Ma disarcionato? Cosa ha fatto? Dammi queste pelli. Levatevi un attimino tutti dalle balle. Grazie. Andiamo cavallo. Bravo così. Tu non ti preoccupare. Mucchetta, non so se riesco a prenderti pure a te. Non cadere, non morire. Ti prego, dammi qualcosa. Non mi ha dato niente. Via. Andiamo. Avevo visto un creeper. Sì, infatti c'era un creeper. Allora, possiamo avere la fortuna di avere un piccolissimo villaggio? Che carina vuole la montagna. Oh, diciamoci la verità. Mi sono scelto un bel posto. Obiettivamente. Altre mucche munite di creeper di difesa proprio. C'è pure una mucchetta e un altro creeper. Qua è un po' complicato prendere la roba. Sono milioni di creeper da tutte le parti. Porco lo schifo. Eeeh, quanti creeper. No, no, no. Qua non ci andiamo. Signori, altre mucche. Che fai? Non te le prendi? Grazie. Ce n'era un'altra qua sotto. L'ho vista prima. Proprio di cattiveria questa l'ho seccata. Attenzione. 23 pezzi di pelle. No, cavallo, non mangiare. Mangi dopo. Eh, stiamo lavorando. Questo si ferma a mangiare. Poi becco un creeper. Esplode. Muori malissimo. Rimango qua asperzo. Ma devo far piedi. È un casino. Madonna quanti creeper però. Attenzione al buco. Una mucchetta solitaria. Che faccio? La prendo? Sì. Eh, sì. Dovrei beccarla. Mi ha detto qualcosa? Non lo so. Vieni cavallo che visto roba che si avvicinava. Cos'era? Non era nessuno. Queste sono allucinazioni notturne. Torniamo dal cavallo. Oh, ho fatto, ho proprio avuto una bella idea. Prendi il cavallo per spostarmi. Decisamente una gran bella idea. Però, mi sto allontanando molto. Eh, piove pure. Che palle. Qua c'è proprio una mandria di mucche incredibile. E questo è un creeper incredibile pure lui. Mucca vieni qua. Aspettate un attimo che c'è il creeper che secondo me sta dietro di me. Mi sta seguendo malissimo. No, quello è un ragno. Potreste levarvi tutto. Lo so che dovrei mettermi un attimino più a riparo. Però sto facendo... Vai, che c'è un creeper dietro. Porca zozza. Eh, questo è un altro. Però ce ne stanno un sacco di mucche, capito? Oh, qua c'è la lao, ci muoviamo male. La pioggia non è esattamente quello che io volevo. Qua non vedo creeper. Quindi possiamo... A parte che nell'erba alta i creeper sono pericolosi... Eh, l'ho visto, l'ho visto. non vi preoccupate che l'ho visto. Io l'ho visto, ma c'è l'erba e non riesco a seccare sta cacchio di mucca deficiente. Dov'è il mio cavallo? Il cavallo di... Ah, non te ne... Ma questo, ma oh, ma non devi mangiare. Cioè, fai una cosa più dinamica. Vieni mandare una mano, che ne so. Dai una zoccolata in bocca a un creeper. Allora, proviamo in questa pianura molto pianeggiante. Ho sentito il fruscio di un creeper. Cioè, ci siamo andati vicini a rimanerci male. Attenzione. Porco schifo che brutta la pioggia, che brutta la notte. Io mi sto allontanando tantissimo dalla mia base e inizio anche a preoccuparmi per questa cosa. Allora, orientativamente la mia base dovrebbe stare più o meno di là. Più o meno. Non lo so, ho sparato una direzione a caso. Ok, qua ha smesso di piovere. Istantaneamente non ci stanno manco le stelle. Ma che è? Bruttissimo. Cioè, cos'è? Una cosa stranissima. Si è buggata questa parte di mondo. O forse ho le stelle disattivate. È possibile. Però, in lontananza, vedo tante altre mucchette solitarie senza nemmeno un mob. Stranissima questa cosa. Cioè, non che mi dispiaccia, ovviamente, perché figurati cosa ce ne frega a noi di beccare i mob ora. Però, voglio dire, ah no, c'è un mob, ho visto uno scheletro. Sta lì dietro, nascosto. Secchiamo pure questo. C'è un ragno che mi sta inseguendo, ma non combatterò con te, amico mio, perché io c'ho il cavallo. c'ho pure un bel portale del nether distrutto. l'ho visto tantissimo, ma è stata quella... Perché? Perché sto passando di qua? Per quale assurdo motivo sto passando di qua? Che magari poi non c'è manco niente nel portale. Ce la facciamo assaltare? Non ce la facciamo. Vai cavallo, non mi morire. Amico, eh, scusami. Fai due passetti, vai, ce l'ha fatta. Che schifo è sto coso? Attenzione, signori, cos'è sto coso? Un armadillo. Non l'ho mai visto, è la prima volta che lo vedo. Aspetta armadillo, che per guardare a te mi seccano. Ma cosa fa? Se ti ciacco, mi dai da... Scusate, non lo volevo ammazzare. Era solamente per capire, non mi ha droppato nulla. Forse ho ammazzato un povero animaletto innocente. Non l'avevo visto, non lo sapevo che ci fossero pure gli armadillo. Ma quanta roba hanno messo su Minecraft e io non so assolutamente nulla. Di là che cosa vedo? Erba, cos'è? Gira soli. Allora, abbiamo 37 pezzi di pelle, che non è per niente male. Qua ci sono mucche e 27.000 creeper. Porca zozza, quello è vicinissimo, quello è vicinissimo. Io confido che il creeper si muove lentamente, non è vero. Un zombie villager, un altro creeper. Proviamo a seccare questa mucca, così allontaniamo anche il creeper dal mio cavallo. Perfetto. Lo zombie non ce ne frega niente. Prendi il cavallo e scappa. Porca zozza, pura macchiappata. Vabbè, qua c'è tutta una pianura di girasoli, là c'è una montagna bellissima. Fa una cosa strana. No, se mi butto nell'acqua il cavallo, ce la puoi fare, salta. Madonna, sto cavallo è potentissimo. Stavo guardando quella montagna lì, che c'è una sorta di, cos'è? Una sorta di sentiero, lo vedete? Là. è che c'ho qualcuno dietro? Vabbè, carina, bella. Ed ecco altre mucchette felici che pascolano ignare della morte che sta sopraggiungendo su di loro come una spada di Damo che assassina. Quante stronzate che sto dicendo. Secchiamo pure questa. Benissimo. 44 e in teoria me ne manca una. veramente già ce ne abbiamo pure alla base. Però, voglio dire, siamo messi bene. Ora dovrei tornare alla base. E qui inizia il dramma. Potenzialmente dovrei dirigermi dove vedo delle montagne. Poi, se vedo delle montagne con sopra anche degli alberi di ciliegio, meglio. E gli sherry qualcosa. Intanto queste che fanno le secchi stanno qua, mi trovo. Perché comunque con questa c'è la mucchettina piccola. Vabbè, non fa niente, poi cresce pure lei. Quelle sono autonome. Non è che ci hanno bisogno di tante cose. Ok, signori. Io ho preso le coordinate di casa? Ovviamente no. Perché? Cioè, che vuoi fare? Ti allontani dalla base e prendi le coordinate? Non ha molto senso. Non è vero mai, avrebbe tanto senso, ma mi sono completamente scordato di farlo. Però, confido nel fatto che potrei non perdermi. Stiamo affogando, malissimo. Allora, cavallo, non è difficile. Se tu nuoti un po' e poi cammini, bravo, usciamo da questa pozza. Qua ci sono altre mucche che ovviamente secco male. Non ricordo più se poi i mob si rigenerano. Cioè, tipo, io qua sto distruggendo tutte le mucche che trovo. Secondo voi, una volta che mi allontano di 200-300 blocchi, queste mucche risponeranno o questa zona del mondo resterà senza mucche. Mucche less proprio. Lo so, è un battuta orribile. Armadigli. Ma a proposito, moche c'ho un po' di tempo. Cosa sei? Eh, io dovrei riuscire a capire dove si vede il tuo nome, ma vabbè, non lo so. Poi vedremo. Una volta si leggeva il nome dei mob quando li puntavi o forse mi ricordo male io. Altre mucche, signori. Ok, sto ufficialmente tornando a casa. Almeno l'idea dovrebbe essere quella. Adesso ci troviamo in quella simpatica situazione dove io sto tornando verso casa però vedo posti che non ho mai visto prima e quindi mi sorge il dubbio. Secondo voi, sto andando esattamente all'opposto di dove dovrei andare? È molto probabile. Affogherai il cavallo? Probabilmente sì se non si muove sto deficiente. Allora, tu hai seri problemi. Te lo giuro. di qua. Non è difficile. Metti un piede dopo l'altro ce l'ha fatta. Ok, attenzione. Lì c'è quel portale distrutto che prima non sono andato a vedere non mi ricordo perché non mi interessa nemmeno vederlo e vedo un villaggio mo lo vedo il villaggio. Ok, abbiamo trovato un villaggio. Beh, un'esplorazione rapida al villaggio la potremmo anche fare e poi andiamo da quella parte. Intanto secco anche queste altre mucche. Di sto passo potrei addirittura farmi gli time frame per il magazzino e non è cosa da poco voglio dire. Abbiamo pure un simpatico golem che sta difendendo tutti. Va benissimo. Bravo, tu difendi e non ti preoccupare c'è pure un gatto. Allora, io lascerei il cavallo qua. Non penso che si possa allontanare più di tanto. Tanto questo come lo lasci mangia quindi va bene così. Allora, cosa abbiamo qua dentro di interessante? Una chest con dentro del pane me lo prendo anche volentieri uno smeraldo le torce e questa roba cioè veramente veramente non è che mi metto a prendere le pepite e tutte queste cosette dai. Qua abbiamo qualcosa interessante non so che cosa c'è no, proprio niente. Cos'è questo? Cos'è questo blocco strano? È terra semplicemente terra va bene. Buongiorno tu che cos'hai del pane e della roba che ti lascerò? Oh, qua abbiamo questi che io me li prendo ma solamente perché comunque sono fatti di ferro sempre meglio risparmiare il ferro. È carino questo villaggio però è molto grande tu chi sei? Tu c'hai un arambicco sei pure un chierico tu mi dai gli smeraldi per la rotten flash e non è male come cosa devo dire la verità però non siamo ancora a quel punto dove iniziamo a fare gli scambi con i villager o delle pelli un'altra cosa di questa me la prendo volentieri signori vabbè ve li lascio quelli dai mi avrei fatto pena la mucca però no qua c'è un repair non mi ricordo mai come si chiama sto coso ma quante mucche ci stanno in questo mondo ma veramente secondo voi questo villaggio ce l'avrà una sorta di libreria ho beccato la mucca speedy gonzales è una cosa incredibile eh ragazza ecco la zozzeria questa deve essere imparentata con quella di prima allora sicuramente è un villaggio pieno zeppo di chest cioè ne ho beccato un sacco uh c'è pure il cartografi qualcosa me lo prendo lo so sto depredando un villaggio proprio impunemente però bisogna farle queste cose mo mi sto perdendo anche ovviamente qua dentro ci sono già stato probabilmente si infatti si allora il mio cavallo dovrebbe stare eccolo lì l'ho visto da queste parti ce ne possiamo anche andare la campana non mi serve altra roba non mi serve tanto sicuramente ci ricapiteremo allora proviamo quella direzione no secondo me non è in quella direzione proviamo in questa direzione prima o poi troveremo il nostro posto perfetto dove sta la nostra base chi lo sa intanto ne approfitto sono passato di nuovo vicino a sto portale buttiamoci un occhio rapido cosa ci sta dell'ossidiana togliamoci roba inutile tipo tutto quello che abbiamo ossidiana un corso vanishing non me ne frega niente un protection four incredibile un blocco d'oro quasi quasi me lo prendo visto quando mi serviva non ce l'avevo d'ho mollato il cavallo sta laggiù sta tornando la notte non so se ci avete fatto caso allora io ho visto il portale e stavo arrivando da quella parte quindi in teoria dovrei andare di là allora sono molto fiducioso che questa potrebbe essere la direzione giusta ci andrò sempre dritto finché non trovo qualcosa poi nel mentre ne approfitto e prendo pure un po' di canne da zucchero sempre se il mio cavallo non muore prima che comunque mi serviranno per fare la carta giusto? giusto dove sta il mio cavallo? l'ho lasciato in bagnomaria vieni qua ragazzi andiamo su e cammino oh niente c'ha problemi c'ha seri problemi cioè devi fare un millimetro e andare sulla terraferma non ce la fa non ce la fa ok siamo al campo di girasoli e ci siamo passati me lo ricordo benissimo quindi potrei confidare nel fatto che quelle montagne lì giù appartengano alla mia base potrebbe essere ho appena visto un creeper proviamo a salire lassù se non ci seccano prima qua ci sono un sacco di canne da zucchero che io prenderei molto velocemente ancora mucche cioè non lo so milioni di mucche stanno in questo mondo che gran figata allora lì ci sono le zucche che siano quelle che avevo trovato prima non vedi che si imbizzarri ah forse si è imbizzarito perché ha visto il ragno può darsi cioè si spaventa e si imbizzarisce come un deficiente e resta fermo lì a morire potrebbe anche essere questa montagna faccia parte della nostra base qua non mi ricordo di essere passato mai ok vedo dei alberi di ciliegio buon segno ragazzi buon segno è un gran buon segno un jolly un coso un spider jolly non mi ricordo vabbè e lo scheletro sul ragno come si chiamava jolly forse ho appena saltato un burrone non me ne sono manco accorto allora signori mi sono appena andato a sbirciare lo screenshot che avevo fatto del mob spawner di scheletri il primo che abbiamo trovato che era praticamente nella base e quindi adesso vediamo dove stiamo io devo andare a meno 1400 quindi da quella parte meno 1916 ok la direzione è questa di là va bene ovviamente devo passare per la terraferma perché il cavallo non lo voglio mollare nell'acqua anche perché è notte non che io mi sia affezionato al cavallo qua pazzo però se lo lascio nell'acqua voi capite che ma devo far piedi e non è una buona cosa quindi farò il giro da questa parte e poi puntiamo dritti di là vediamo se riesce a fare il salto della fede sì non è un cavallo è una capra di montagna cioè raga mi sto arrampicando su una parete ripidissima è una roba incredibile sto coso e non si sta manco gricciando negli alberi ora che ci penso ma che abbiano fixato le cavalcature su minecraft ma non ci posso credere mai ok qua potrei morire sia io che il cavallo di sto passo però io confido nelle potenzialità di questo eccolo dicevo confido nelle potenzialità di furia al cavallo del west vai che ce la puoi fare come io non ti far intimidire da una freccia purtroppo non c'ho una bardatura da darti quindi niente tira avanti eh signori credo proprio che la nostra base sia oltre questo burrone enorme uh c'è anche un asino un muro non lo so c'è qualcosa come ci arriviamo da st'altra parte di qua vai che siamo vicini non morire adesso stavo stavo morendo malissimo sì siamo vicini c'è pure il coso dei pillager che non ricordo minimamente come si chiami come tutto cioè non ricordo nulla cioè sto giocando un gioco di cui non ricordo assolutamente nulla ma la pena mi ricordo che si chiama minecraft e questo era il rumore di un creeper pronto ad esplodere ma noi lo ignoreremo totalmente ok è stato un bel viaggetto vi dirò mi son fatto la meglio cavalcata mai fatta su minecraft con sto cavallo eh devo dirvi la verità ma non so se hanno fissato le cavalcature o beccato un cavallo potenziato non lo so però è andato tutto liscio e perfetto come l'olio e qua sotto dovrebbe starci la nostra base in teoria muo muore il cavallo e infatti siamo non ci credo signori siamo arrivati cioè di che cosa stiamo parlando ri dove sta rimettiamolo qua e andiamo a vedere il nostro bottino sempre se non muoio male poi ci rimuoio un'altra volta e là dentro lo so io lo sapete pure voi allora cosa abbiamo trovato abbiamo trovato la bellezza di 74 pezzi di pelle abbiamo una marea di carne che vado subito a cucinare perché voglio dire con tutta sta carne ragazzi stiamo a posto per un bel po' ecco qua la fornace sta ancora smeltando roba eccolo eh lo sapevo che c'era cascato dentro sto blocco magari posso anche spegnerla adesso che fa un casino esagerato perfetto a questo punto non ci resta che decidere dove fare la stanza per l'enchanting allora io direi che una vista dall'alto forse ci potrebbe aiutare oppure una vista dall'alto ci potrebbe uccidere io lo sapevo ve l'avevo detto che morivo cioè è matematico questa cosa è una trappola mortale vabbè non è che sia un problema così devastante tanto chi se ne frega per il momento possiamo ancora permetterci di morire non è un grosso problema però la roba la vorrei recuperare tutta se non vi offendete ovviamente perché rimettiti pure sti cosi rimettiamo la nostra solita configurazione che è spada torce cibo piccone mettiamo questo ascia eventuale pala se ce l'abbiamo e poi il resto è molto random va bene così allora dicevo penso di aver preso tutto più o meno andiamo a vedere dall'alto dove possiamo fare la nostra stanza dell'enchanting stavolta senza morire male là c'è il nostro magazzino e lì succede la nostra stanza bellissima con la scaletta quella è tutta la zona per le fornaci io per il momento la metterei lì dentro o la vogliamo fare all'aperto perché no potremmo farla lì su potremmo fare una sorta di piazzola dell'incantamento poi come ho detto nell'ultimo video non so se avete già fatto i commenti perché questo lo sto registrando prima che esca il video numero 9 quindi se non l'avete fatto suggeritemi un nome carino bello da dare alla piazzola dove andiamo a mettere l'enchanting in tebo la metto lì all'aperto mi piace ok bene andiamo così mi evito pure stavo rimorendo male non so se l'avete notato i più attenti di voi l'avranno notato dicevo così mi evito pure di scavare un buco e farmi una stanza vediamo un po' allora io qua dovrei togliere tutta questa roba e poi li facciamo la salita va bene va bene distruggo un po' di blocchi ovviamente inizio pure a mettere gli slab per fare quelle famose gradinate molto carine dove ho messo altri slab qua dentro magari ne faccio anche degli altri di slab perché no allora facciamo come prima poi ripeto questi slab fatti in cobblestone fanno schifo lo so benissimo poi li cambiamo è solamente per dare un'idea di come dovrebbe venire alla fine piazziamo torce a tutte le parti ed eccoci qua siamo arrivati ok ho dovuto rompere un po' di sta piazzola però alla fine ci siamo arrivati qua possiamo fare la nostra zona dell'enchanting che secondo me ci sta pure bene tanto lo spazio c'è quello va uno qua con l'intorno si la facciamo qua allora andiamo a preparare quello che ci occorre qua c'è un devasto però non ci posso far nulla c'ho l'inventario strapinissimo allora vediamo come si fa l'enchanting table in teoria dove sta dove sta la mia craft eccola qua enchant eccola qua ok due diamanti ce li ho il libro lo faccio quattro pezzi di ossidiana e questi non ce li ho ve lo dico già da molto infatti ce n'ho solamente due non è un problema la possiamo rompere l'ossidiana sta giù però prima di rompere l'ossidiana io voglio andare a piantare un po' di canne da zucchero in modo da avere come ricavare la carta se no i libri come cacchio li facciamo eccoci qua queste stanno crescendo qua pure è cresciuto tutto e userò il contorno di stisolotto per mettere le sugar cane mi sembra giusto quindi le mettiamo tutte quante qua quelle le canne da zucchero vanno piantate su un blocco che aderisce all'acqua tipo qua non si può piantare perché nessuno dei quattro lati confina con l'acqua è un po' teniamo così non è che possiamo fare altro ok mettiamo un po' di torce pure su stisolotto che finora non ce l'abbiamo ancora messe in modo che lo teniamo bello pulito senza mostriciattoli vari illuminiamo un po' tutta l'aria così la useremo come isolotta di coltivazioni farming e perché no possiamo pure fare un posto dove allevare degli animali all'aperto o semi aperto teoria più o meno dai non penso che succeda qualcosa va bene andiamo a prendere l'ossidiana o io dovrei ricordarmi dove ho della lava perché qua sotto probabilmente sì sì qua sotto c'è mi ricordo non esattamente dove sta però mi ricordo che c'è allora scendiamo intanto là c'è un blocco di ossidiana che mi ero sbagliato a mettere quindi quello ce lo possiamo prendere tranquillamente intanto il piccone di diamante ce l'ho 140 utilizzi proprio scialapopolo questo ce lo prendiamo ora se non mi ricordo male si dovrebbe scendere di qua ma sicuramente mi sto ricordando male e invece no e invece no si scendeva di qua solo che qua la lava è in movimento io mi ricordavo completamente un'altra roba e ho sentito una freccia no mi sono sbagliato non lo so vabbè andiamoci a buttare un occhio intanto io mi sono avviato con tutta la roba nell'inventario proprio il genere della lampada incredibile vabbè male che vada mi prendo una secchiatata di lava giù e me la porto che ce frega possiamo già lanciare? ci possiamo già lanciare oh vedi qua già c'è una bella secchiata di lava che io mi prenderei in allegria così me la porto su e chi se ne frega tanto in teoria me ne manca solamente un altro di blocco d'ossidiana per quello che ci serve la piazzo qua e se ci butto una bella secchiata d'acqua abbiamo fatto la nostra ossidiana e ce la prendiamo la carta per un libro già ce l'ho perché l'ho trovata quindi intanto il libro ce lo possiamo fare sciallo in questo modo è un libro ce l'abbiamo 4 blocchi di ossidiana in teoria ce li abbiamo e 2 diamanti che in teoria pure ce abbiamo signori possiamo fare la nostra enchanting table ma proprio sciallissima allora si fa così così e così e voilà abbiamo l'enchanting table perché non c'è un suono che mi dice oh complimenti hai fatto aspettate in teoria doveva esserci un suono che mi diceva che avevo fatto una cosa nuova perché non mi è spuntato non è che io l'avevo già trovata è come un deficiente sto facendo sta roba 10 volte no non lo so vabbè capita ok allora andiamo lì su senza saltare guardate che figata e si sale e vediamo dove farla allora l'enchanting table si deve fare al centro deve avere 15 librerie intorno io penso che per il momento la posso tranquillissimamente piazzare ma secondo me qua qua perfetto così poi tutto intorno qui mettiamo le librerie ma intanto ce l'abbiamo voglio dire è una grandissima cosa ma dobbiamo farci le librerie quindi devo aspettare un attimino che le nostre canne da zucchero crescano però intanto io una vista dall'alto a quello che abbiamo fatto finora se non vi dispiace ce la darei perché sono pure curioso voglio dire un'altra cosa che dobbiamo fare secondo me anche urgentemente è un sistema di risalita che non sia questo schifo che abbiamo qua che a parte che è lento poi è abbastanza mortale perché vedete in questo spazietto qua io ci casco e ci muoio allora giriamoci un attimo per vedere se abbiamo mob strani alle spalle no oh ecco qua vedi quello è un sistema di risalita là ci abbiamo magari quello poi gli diamo una forma più carina di come adesso che fa abbastanza schifo e lì noi andiamo a fare la nostra zona dell'enchanting ci sta vediamo se le nostre canne da zucchero stanno crescendo un po' manco per niente poverine vabbè devo aspettare ragazzi aspettiamo un po' e vediamo che succede allora ragazzoli sono rimasto FK ho preso un po' di canne da zucchero in teoria dovremmo esserci tantissimo fatemi pure mangiare ancora quindi 45 pellice le abbiamo facciamo la nostra carta dovrebbe aver fatto i calcoli più o meno in teoria ah me ne da tre figurati pensavo che con tre canne da zucchero mi desse un solo foglio quindi ho fatto un casino di roba in più vabbè non ce ne frega niente facciamo così e chi si è visto si è visto allora facciamo così perfetto abbiamo 45 libri con cui fare 45 librerie scusate 15 librerie ora mi manca il legno devo prenderlo assolutamente tanto di legno ce ne abbiamo quanto ne vogliamo e mi basta penso di sì mi basta perfettamente ok ecco le nostre 15 librerie andiamo a realizzare la nostra enchanting zone power quello che vi pare allora quindi abbiamo detto 1 2 3 vabbè dobbiamo fare il giro semplicemente così poi qua si faceva così e qua si faceva così vediamo se è vero buttiamoci dentro una spada 30 livelli signori se ci butto il piccone per esempio un breaking 3 efficiency 1 che schifo va bene abbiamo fatto la nostra zona dell'incantamento ovviamente abbiamo 9 livelli quindi possiamo incantare pippe fondamentalmente beh oddio il piccone abbiamo detto che mi da già un efficiency 1 non è che farebbe schifo ma io insomma non lo so non lo so se è il caso di provare intanto vabbè proviamo dai facciamo un piccone di diamante lo incantiamo vediamo quello che succede intanto un po' di diamantini ce li ho perché dobbiamo dobbiamo fare la farm di scherati è l'unico modo per avere l'esperienza che al momento ce ne abbiamo poca sono morto settordici volte ovviamente che cacchio vuoi fare proviamo ad incantare questo lapislazzoli a proposito ne ho me l'ho dimenticato questo piccolissimo si ce li ho particolare per incantare un oggetto hai bisogno di esperienza e di lapislazzoli ovviamente allora proviamo ti prego dimmi che mi dai efficiency ah sempre lo stesso da questo vabbè non ce ne frega niente allora un efficiency 1 già è qualcosa tu un efficiency 2 già è qualcosa e questo mi da efficiency 4 però sarebbero 30 livelli sentite intanto ci facciamo un bel efficiency 2 efficiency 1 li uniamo così abbiamo un efficiency 2 che già è tanta roba per unirli mi servirebbe una incudine un envil ce l'ho il ferro per farmi un incudine ma secondo me mai nell'universo a meno che non l'ho smeltato non lo so l'incudine come si faceva ne servivano solo 3 possibile che si facesse così si abbiamo anche l'incudine e allora di che cosa stiamo parlando qua la piazziamo un attimo qua questi facciamo così vabbè abbiamo un bel piccone bello insomma con efficiency 2 non c'ha un breaking c'ha niente però voglio dire meglio di un caccio nel culo alla fine è anche notte ragazzoli io per questo episodio mi fermo qua ho fatto una registrazione di un'ora e qualcosa quindi bene o male dovremmo rientrarci nel tempo del video nel prossimo episodio ci andremo a dedicare sicuramente a fare la farm di scheletri quindi una bella farm di esperienza di ossa di frecce e vorrei anche sistemare quella pozza d'acqua che scende per farmi una sorta di ascensore più decente e poi iniziamo anche a pensare a quale materiale usare per fare la pavimentazione non è come sistemare un po' la zona insomma di lavoro ce n'è un sacco là c'è uno zombie perché c'hanno zombie comunque di lavoro ce n'è un sacco io spero che questo episodio vi sia piaciuto vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi